Siamo in estate, fa caldo, vorremmo andare in vacanza, siamo in vacanza, i nostri ragazzi, i nostri figli desiderano scappare, desiderano una pausa. Tutti noi forse sogniamo con le vacanze, con un tempo di riposo. Ebbene, oggi il Signore ti dice che cosa sia il riposo, dove sia il vero riposo. Il riposo autentico è con Lui, è caricando, prendendo il suo gioco sopra di noi. Non indurire il cuore, imparala Gesù, perché Lui ha preso su di sé il tuo gioco. Allora appare qui Dismas, o Disma, secondo la tradizione, il cosiddetto buon ladrone. Quest'uomo sulla croce ha imparato da Gesù Cristo l'umiltà e l'amitezza di cuore. Ha compreso, cioè ha preso con sé la realtà, quella che aveva davanti ai suoi occhi. Questo uomo ha visto che Gesù Cristo era crocifisso lì per Lui. Lui non ha fatto nulla di male. Noi sì, io sì, ma Lui è condannato alla stessa mia pena. Queste parole riconoscono la realtà, rivelano l'umiltà del cuore. Nella conseguenza estrema della sua vita di ladrocini, di menzogne, era un malfattore. Quest'uomo guardando Cristo, fissando Cristo, contemplando Cristo, aveva compreso che Gesù Cristo lo stava amando in quel momento, perché aveva preso il suo gioco. E prendendo il suo gioco, cioè prendendo la sua stessa croce, e diventando la croce di Disma, la croce di Cristo, stava facendo sì che la croce di Cristo diventasse la croce di Disma. Questo scambio compiva il Vangelo che abbiamo proclamato oggi. Prendete il mio gioco sopra di voi, perché io ho preso il vostro gioco sopra di me e l'ho reso mio. Per questo tu lo puoi prendere. Questo è il primo passo, fratelli. Riconoscere l'amore di Dio nella tua vita, che Gesù Cristo ha dato la vita per te. Ascoltare la buona notizia e non indurire il cuore. Lasciarti amare, lasciarti trafiggere l'anima, laddove tu sei più affaticato. Lasciarti trafiggere il cuore, laddove tu sei più appesantito, laddove sono depositati giorni, mesi, anni di giudizi, di menzogne, di peccati. Lasciarti trafiggere da questa notizia. Dio, per prenderti, è sceso da dove tu sei, appreso la tua stessa storia. Si è fatto peccato, si è lasciato inchiodare sulla stessa tua croce. Quella croce che oggi ti distrugge. Che hai interpretato come una maledizione, come una sfiga, come un castigo di Dio, una ingiustizia di Dio, ingiustizia degli uomini. Quella sulla quale ti sei divincolato per soffrire di più. L'appresa Gesù Cristo, guardala oggi, in questo giorno caldo di luglio, guardala. Fissa la sua croce e guarda questi due ladroni. Chi sei tu? Chi vuoi essere tu oggi? Vuoi continuare ad essere questo ladrone alla sinistra o vuoi essere Dismas? Questa è la libertà, questa è la porta che ci conduce al riposo. Puoi indurire il cuore e continuare a divincolarti, a cercare di sfuggire dalla tua vita, dalla tua storia, da ciò che ti sta umiliando. La maggior parte delle icone della rocifissione, icone orientali, ma anche nei dipinti occidentali, sulla testa dei due ladroni ci sono. Su quello alla sinistra c'è un demonio sempre, c'è una figura inquietante che gli strappa l'anima, che prende l'anima e la porta con sé nell'inferno. Sull'altro, su Dismas, sul buon ladrone, c'è un angelo che prende la sua anima e la porta al cielo. Oggi è davanti a noi questa possibilità, ogni giorno è davanti a noi questa possibilità. Possiamo oggi riconoscere i nostri peccati, riconoscere ciò che c'è nel nostro cuore, riconoscerci affaticati e oppressi e andare a Gesù, imparare da Lui. Andare a Gesù dicendo, Signore, ricordate di me, avvi pietà di me. Riconoscere che Lui è re, lì sulla croce è re, e che se il suo gioco è il mio gioco, vuol dire che io posso essere re con Lui, cioè io posso essere trascinato, portato sulle sue spalle, nel suo stesso regno, che è il riposo, che è la terra promessa, il riposo nel quale sono chiamato ad entrare ogni giorno. Per questo la croce coincide con la porta di schiusa sul riposo, il vero riposo. Io posso reclinare il capo nel riposo, sulla croce. Se state bene le immagini della crocifissione, vedete che Gesù recline il capo sulla destra, verso il ladrone pentito, verso il buon ladrone, verso te e verso me oggi. È lì che Lui posa il suo sguardo, sulle tue sofferenze, sulle tue angosce, sulla tua oppressione, sulla tua fatica, sulla tua sofferenza. Se oggi ascoltate la sua voce, oggi sarai con me nel paradiso. Oggi si è compiuta questa parola che avete udito con i vostri orecchi, dice il Signore nella sinagoga di Nazareth. Oggi è nato per voi un salvatore, oggi, in questo momento preciso, la salvezza è entrata in questa casa, dice il Signore a Zaccheo. Oggi sarai con me nel paradiso, oggi, alla finché dura quest'oggi, dice la lettera degli ebrei. Non induriamo il cuore, abbiamo un oggi, che è questo momento, che è questo istante, che è questa storia, che è questo che io e te stiamo vivendo, che è questa croce per convertirci, per alzare lo sguardo e dire io, io, è giusto quello che sto vivendo, è appropriato, è adeguato a me. Questa vita che sto vivendo, questa storia è esattamente così com'è, questa croce è adeguata a me, perché Gesù l'ha resa adeguata a Lui. Questo gioco non può essere diseguale, perché se è diseguale allora si inciampa. Allora Gesù Cristo ha reso la tua croce, la tua storia, ciò che ti inchioda oggi, lo ha reso uguale a Lui. Per cui tu e Gesù l'ho portato assieme, tu lo puoi portare perché Lui lo porta. Oggi puoi entrare nel riposo, in ufficio, sul letto d'ospedale, solo, con l'astrosi, un malato terminale, abbandonato dal marito, abbandonato dalla moglie. Qualsiasi situazione, quello che sta vivendo tuo figlio, lo sta conducendo a questo oggi, è già parte di questo oggi. Nell'iconografia orientale del giudizio finale c'è la porta del cielo, la porta del paradiso. Ci sono tutti i patriarchi in fila, tutti i santi dell'Antico Testamento che fanno per entrare. Sempre su questa porta c'è la Vergine Maria. E chi è il primo che entra? Chi è il primo che ha barcato la porta portando una croce? Il buon ladrone. Alle volte è messo lì, questo tondo in questo cerchio, è messo lì proprio come se fosse entrato all'ultimo momento, proprio come se fosse entrato di soppiatto, ah ce l'ho fatta, ma è dentro, è nel riposo, è nel paradiso, il primo santo, l'unico del quale è certificato da Gesù Cristo in persona l'entrata nel paradiso. E dice, sarai con me. Il gioco è il luogo dell'intimità profonda con Gesù Cristo. Quello che io penso che invece mi fa lontano da Lui, quello dove io sto mormorando contro Lui, dove io mi sento abbandonato. No, quello è il luogo dell'intimità più profonda di Dio con il suo figlio. Perché il compimento estremo, laddove è più lontano dal Padre, è più vicino al Padre, anzi è più del cuore del Padre, è più del centro del cuore del Padre perché sta compiendo la sua opera. Così allo stesso modo ciò che fino ad oggi ci ha allontanato da Gesù Cristo, quello si può trasformare nel luogo dell'intimità più profonda con Cristo. Solo con la tua debolezza, solo con i tuoi fallimenti, solo con la tua sofferenza, puoi dire, Gesù, Signore mio, Kyrgios mio, come Crisma, Signore mio, abbi peccati me, portami con te, fammi entrare nel tuo regno, io merito quello che ho vissuto, lo accetto. Entra con Cristo, entra con lo sposo nella stanza noziale, nel suo riposo. Tu oggi puoi essere qui e in paradiso, oggi puoi cominciare a gustare sulla croce le dirizie del paradiso, dando la tua vita, amando, amando dentro quella malattia, amando in quella situazione, amando. Non puoi amare quella persona, vedi che non la sopporti, amala, offrendo questa impotenza a Cristo. Hai capito che non puoi, va bene, accettalo e daglielo, consegnaglielo. Ti prego, ricordati di me, tu che stai vincendo per me questa barriera che mi separa dall'altro, ricordati di me, cioè portami con te dall'altro, portami con te nel paradiso, io non posso. Offri la tua impotenza, offri la tua sebolezza, offri la tua vita a Cristo. E questo si trasforma in amore, per questo quelle braccia distese che ti opprimono, ti affaticano, diventano un luogo di delizia. Tra il ristoro per la tua anima. Sant'Agostino può parlare anche di te, come parlava del ladrone, dice, Cioè, coloro che hanno visto Cristo risuscitare dai morti, i suoi apostoli, hanno vacillato. Questo ladrone, invece, ha creduto in colui che vedeva appeso al legno accanto a sé. Tanto il suo stesso gioco. Nell'istante stesso in cui i primi hanno vacillato, egli ha creduto. Che bel frutto ha colto questo bandito sul legno secco. Lo stesso frutto che puoi raccogliere tu sul legno secco della tua vita, della tua storia, di quello che oggi sembra senza frutto, sembra fonte di disperazione, frustrazione. In verità, in verità, cioè, è certissimo, è verissimo, oggi sarai con me nel paradiso. Facciamo come il buon ladrone del dipinto di Tiziano, che alza quasi il braccio per prendere Cristo. Era un ladrone come tu e come me. Ebbene, possiamo imparare. Aveva rubato tutta la vita? Bene, all'ultimo istante ha rubato il cielo questo uomo. Tu oggi puoi rubare il cielo, perché Cristo ti ha rubato, ti ha strappato al demonio. Allora, questa arte si impara nella Chiesa. In un manoscritto ebraico, frammento, dice così, Venite a me voi che siete senza istruzione. Prendete dimora nella mia casa di studio, la Beit Mitrash. Quanto tempo volete rimanere privi di queste cose, mentre la vostra anima ne è tanto assetata? Ho aperto la bocca e ho parlato della sapienza. Sottoponete il collo al suo gioco e permettete alla vostra anima di portare il suo carico. Essa è vicina a quelli che la cercano e la persona che dà la sua anima la trova. Alcuni interpretano che questo affaticamento, questa oppressione, è dal rigore legalistico e precettistico da parte dei registi, dei farisei, che opprimerono il popolo. Per cui la legge è diventata una oppressione, come per noi. Perché non possiamo amare, non possiamo compiere la legge che è Amerai il tuo Dio con tutto te stesso e il prossimo come te stesso. Allora siamo oppressi, abbiamo bisogno di una casa di studio. È la parola originale. Masete. Significa proprio studiare, imparare. Allora c'è una casa, c'è un bet mitrash per te e per me. Una casa di studio che è la nostra comunità cristiana. La chiesa dove possiamo imparare ad aprire gli occhi su Gesù Cristo. Dove possiamo sperimentare che Gesù Cristo veramente ha preso il nostro gioco. Che ha perdonato i miei peccati. Il perdono dei peccati lo posso imparare nella chiesa. Lo posso studiare nella chiesa. Perché lì la parola mi illumina. I sacramenti compiono ciò che la parola illumina. Cioè realizzano questo Vangelo nella mia vita. La confessione, l'eucaristia. Lì sono unito al suo gioco. Prendere su di noi il gioco della Torah. È leggero perché l'ha compiuto Cristo. E l'ha compiuto sulla croce. Perché pieno compimento della legge, della Torah, è l'amore. Buona giornata.